Musica Buonasera a tutti, buonasera dal TG Prato. Apriamo con i maltrattamenti nella residenza sanitaria assistita di Narnali. La ASL ha chiuso l'indagine interna. Sentite come. L'inchiesta interna dell'ASL 4 a carico dei dirigenti dopo quella della procura sui maltrattamenti agli anziani ospiti della RSA di Narnali, nella quale sono finiti 17 tra infermieri e operatori sociosanitari della cooperativa Astir, si sarebbe chiusa con due provvedimenti disciplinari, una sospensione temporanea dal lavoro e una munizione scritta. La commissione aziendale di disciplina avrebbe concluso così la propria istruttoria, riavviata subito dopo l'indagine della procura che lo scorso luglio mise a nudo quanto accadeva all'interno della struttura, documentando tutte le immagini riprese dalle telecamere scoste e installate di Zia Neggenti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.